signori buongiorno e bentornati sul canale del master car e io sono il master car il vostro ospite su questo canale e questa settimana il titolo l'avete visto andiamo a rispondere tecnicamente a una domanda che aveva fatto willy x all'inizio di questa stagione ma in realtà questa è probabilmente una delle domande che mi hanno fatto più spesso dall'inizio della storia del canale e anche fuori da quello che faccio su youtube e la domanda è quando si deve distribuire il tesoro ai giocatori è meglio dare oggetti magici o altri oggetti pratici o dare soldi che loro possano spendere come preferiscono questa è una questione abbastanza annosa e probabilmente tutti quelli tra di voi che masterano potrebbero parlarne per ore cosa che non è che io non farei ma in questo caso fare un rant di un'ora su quello che preferisco fare io non mi sembra il caso anche perché sarebbero opinioni personali che lasciano il tempo che trovano quindi questa settimana più che andare a parlare di cosa piace o non piace andiamo a fare un discorso analitico su che cosa siano i due casi nella pratica e in quale caso uno sia preferibile all'altro non perdiamo altro tempo quindi e andiamo a vedere se e quando è meglio dare soldi o oggetti prima di andare a valutare eventuali risposte alla nostra domanda di questa settimana però bisogna fare un passo indietro e andare a vedere che cosa significa realmente distribuire il tesoro in forma di oggetti magici o di monete d'oro io a volte mi domando se c'è effettivamente qualcuno che si aspetta che io arrivi al punto del discorso prima di metà video per quanto cosa significhi oggetti magici e monete d'oro sembra abbastanza auto evidente quando andiamo a parlare del gioco di ruolo in realtà non è proprio così ovviamente quando andiamo a parlare di oggetti magici parliamo di elementi interni al gioco che permettono ai giocatori di avere qualche opzione o potenziamento per il proprio personaggio che sia una spada magica che permette ai giocatori di picchiare più forte i mostri che sia un mantello magico che gli permette di nascondersi meglio di diventare invisibili di volare o quello che è mentre quando parliamo di monete d'oro stiamo parlando di un'unità di valuta economica all'interno del gioco con cui i personaggi potranno acquistare merci servizi e ovviamente anche altri oggetti magici questo usando dato che siamo una rubrica del d20 system le definizioni classiche i dnd ma in realtà con nomi diversi queste cose sono presenti in tantissimi altri giochi tradizionali questa definizione però prende in considerazione che cosa sono i soldi e gli oggetti magici dal punto di vista dei personaggi che per quanto siano gli elemento più importante del gioco il punto di vista attraverso cui la storia viene narrata non sono i reali agenti all'interno del gioco perché gli agenti reali in un gioco di ruolo sono i giocatori di ruolo quindi la definizione che dobbiamo dare non è quella dal punto di vista dei loro personaggi ma è cosa sono le monete d'oro gli oggetti magici per i giocatori che controllano quei personaggi e se analizziamo le cose da questo punto di vista le cose cambiano gli oggetti magici sono quegli elementi all'interno del gioco che permettono a un personaggio di guadagnare o un qualche tipo di bonus statico comunque potenziamento a un'abilità che già possiede la spada magica permette di picchiare i mostri meglio che senza la spada magica e quindi permette che l'azione dichiarata di attaccare il mostro sia più performante o al contrario permette al giocatore di far dichiarare al suo personaggio delle azioni o delle abilità che normalmente non potrebbe fare il mantello dell'invisibilità permette al giocatore di dichiarare che il suo personaggio diventa invisibile cosa che senza quel mantello non potrebbe fare all'interno del gioco le monete d'oro al contrario sono una pool di risorse con cui il giocatore può andare a personalizzare il proprio personaggio o tramite l'acquisto di oggetti o in base al regolamento alle scelte del master con l'interazione con qualche altro aspetto del mondo di gioco questo probabilmente merita un attimo più di attenzione perché ho visto molte persone non cogliere immediatamente questo aspetto che in realtà è fondamentale nella meccanica di molti giochi tradizionali il tesoro del vostro personaggio all'interno del gioco rappresenta quanto quel personaggio sia ricco ma per voi come giocatore indica la quantità di cose che il personaggio può acquisire per andare a cambiare o migliorare il modo in cui interagisce con il resto del mondo di gioco facciamo un esempio per semplificare diciamo che il master dice che il vostro personaggio ha un tesoro di 4000 monete d'oro senza andare a scendere troppo in dettagli perché in realtà dipendono da regolamento a regolamento diciamo che voi con quei soldi comprerete per il vostro personaggio un'armatura da 1000 monete d'oro che potenzi la sua difesa per altre 1000 monete d'oro un mantello magico che conceda qualche tipo di capacità di movimento che normalmente il vostro personaggio non possiede diciamo che le investirete in un mantello che permette di volare e le ultime 2000 monete d'oro serviranno ad acquistare un'arma magica che permetterà al vostro personaggio di fare più danni quando va a picchiare i mostri in corpo a corpo questa è una situazione assolutamente normale che chiunque abbia mai preparato un personaggio per il gioco tradizionale ha vissuto ma nella pratica se il master avesse detto che voi avete quattro punti per equipaggiare il vostro personaggio e voi aveste deciso di spendere un punto per equipaggiare il mantello un altro punto per equipaggiare l'armatura e due punti per equipaggiare l'arma nella pratica l'effetto che si sarebbe ottenuto all'interno del gioco sarebbe stato esattamente lo stesso e il vostro personaggio avrebbe avuto esattamente lo stesso equipaggiamento e avrebbe potuto compiere esattamente le stesse azioni all'interno del gioco e questo dimostra proprio che il tesoro è la pool di risorse che voi andrete a utilizzare per concedere al vostro personaggio alcune specializzazioni o personalizzazioni che vanno al di là di quelle che sono le sue abilità di classe le sue abilità di razza o quello che è la base per quel tipo di personaggio all'interno del regolamento che state utilizzando il fatto che questo venga presentato all'interno del gioco come se fosse una transazione economica con una forma di valuta è fatto semplicemente per semplificare e per rendere più plausibili alcune limitazioni arbitrarie che dovrebbero sussistere per bilanciamento del gioco se durante la creazione del personaggio il master cominciasse a parlarvi di punti per l'equipaggiamento e di spesa in base a quanti oggetti prendete probabilmente la cosa comincerebbe a sembrarvi al di là che complessa ma anche artificiosa perché il limite di oggetti in base ai punti sembrerebbe appunto un limite messo lì artificialmente solo per motivi meccanici ma se il master vi dice che il vostro personaggio ha un tot di soldi e poi vi dice andate a vedere la sessione dell'equipaggiamento e compratevi quello che vi piace non ha bisogno di spiegare altro perché come funzionano i soldi lo sapete già e in più vi sembrerà perfettamente plausibile che il vostro personaggio non si può comprare più cose di quelle che abbia i soldi per pagare vista in quest'ottica a questo punto la vera domanda a cui bisogna rispondere quindi cambia non è tanto più il discorso se è meglio dare soldi o oggetti magici ma la domanda vera diventa è meglio dare ai personaggi dei giocatori dei bonus di potenziamento decisi a priori dal master ma non necessariamente a lui poi lo vedremo o dare ai giocatori accesso alla pool di risorse che permettano di personalizzare da solo i propri personaggi con i bonus o le abilità che preferiscono visto metà video siamo arrivati al punto tutto come avevo detto all'inizio la risposta è che ovviamente dipende dalle circostanze e anche da quello che si sta cercando di ottenere nel gioco distribuendo direttamente i soldi in pratica il master lascia che siano i giocatori a prendere tutte le decisioni per quanto riguarda il perfezionamento e l'adattamento dei loro personaggi ogni personaggio riceverà una parte del bottino e il suo giocatore sceglierà come impiegare quella quantità di risorse che ha ricevuto per rendere più ottimizzato il suo personaggio o anche solo renderlo più personalizzato e più affine a quello che è il suo gusto personale quando si tratta di giocare in linea teorica si parte sempre dal presupposto che la distribuzione di queste risorse siano eque tra i giocatori ma in realtà non necessariamente così quando il master dice ai giocatori che hanno trovato un tot di soldi i giocatori potrebbero benissimo dividere tra di loro quel bottino in maniera iniqua o per motivi di trama interni alla dinamica del loro gruppo o anche semplicemente per calcolo potrebbero per esempio decidere che è meglio investire più risorse in uno solo dei personaggi per permettergli di fare meglio qualcosa che poi di riflesso torni molto più utile al resto del gruppo la maggior parte dei gruppi di gioco sarebbero ben lieti di prendere meno tesoro se questo vuol dire che il chierico del gruppo cura molto di più per quanto questo è il metodo che lascia la maggiore libertà possibile ai giocatori e quindi apparentemente sembra quello preferibile perché meno possibilità di scontentare avere la possibilità di fare le proprie scelte però si porta anche dietro la conseguenza che le scelte che si fanno potrebbero essere sbagliate non necessariamente un giocatore sarà soddisfatto delle scelte che ha fatto magari per inesperienza magari per semplicemente una minore mastery su quello che è il regolamento che sta venendo utilizzato ma anche perché i giocatori da parte loro non sanno che cosa li aspetta in futuro mentre poi in mente il master sa già quali imprese i personaggi sono destinati a fare quindi un giocatore potrebbe anche prendere qualcosa che a livello teorico è molto utile al personaggio ma che poi si riveli assolutamente su par nella specifica quest che lui sta giocando distribuire direttamente oggetti magici vuole invece dire che il master o comunque il giocatore al tavolo che decide quali saranno gli oggetti che verranno distribuiti mantenga il controllo su quali saranno le possibili opzioni e specializzazioni per i personaggi sì qua voglio sottolineare che si dà sempre per scontato che sia il master a dare gli oggetti quando si parla ai tesori in oggetti in realtà non è vero anzi in molti casi il master chiede ai giocatori che cosa vogliono prima e poi distribuisce questi oggetti nei vari tesori come gli è più comodo come più sensato è una di quelle cose che sono ovvie dopo che vengono dette ma a quanto pare c'è un sacco di gente che non ci arriva da sola in questo caso ovviamente i giocatori avranno molta meno libertà di scelta su che cosa finirà in mano il loro personaggi al massimo potrebbero scegliere quale dei personaggi riceverà quale degli oggetti che gli sono stati dati ma al contrario almeno partendo dal presupposto che se gli oggetti vengono distribuiti a monte questa scelta venga fatta in maniera razionale ci sarà la virtuale certezza che tutto quello che viene fornito al party sarà in un modo o nell'altro utile perché quello che ha deciso quegli oggetti avere grosso modo lo stesso che ha deciso cosa accadrà nella quest il master che dà ai personaggi una spada infuocata lo farà perché sa che nella prossima quest i personaggi incontreranno dei mostri vulnerabili al fuoco e magari i giocatori non sarebbero andati volontariamente a prendersi un'arma del genere perché è molto situazionale oppure il personaggio che ha chiesto al master di fargli trovare una spada a due mani lo fa perché sa che più avanti il suo personaggio si specializzerà con l'arma a due mani il master dato che un'arma che richiede un sacco di talenti per essere usata probabilmente non l'avrebbe messa perché non pensava che uno dei giocatori effettivamente volesse usarla lo svantaggio di questo metodo è anche che prevede molto più lavoro a parte del master o comunque di chi pensa a questi oggetti perché non solo bisognerà organizzare la quest ma bisogna organizzare anche i tesori e soprattutto non si potranno appunto mettere oggetti a caso ma bisognerà ragionare sui singoli oggetti in base a che cosa sono utili e anche facendo in modo di far trovare sempre qualcosa che sia utile a qualcuno di questi personaggi giocanti magari non ogni tesoro avrà un oggetto per ogni giocatore ma il master dovrà fare in modo che nessuno rimanga a bocca asciutta per troppo tempo ovviamente non esistono solo i due poli opposti di distribuire solo monete o solo tesori anzi molto spesso viene scelto di fare qualcosa di ibrido distribuendo il tesoro parte in monete e parte in oggetti in questo modo si hanno i vantaggi di entrambi i metodi i giocatori avranno una pool di risorse con cui comprarsi quello che loro ritengono meglio ma il master da parte sua avrà sempre la possibilità di inserire qualcosa che sa che è utile per i personaggi ma che dando come tesoro non rischia di far diventare uno spoiler su quello che accadrà dopo se il master vi dicesse ah vi consiglio proprio di comprarvi una spada infuocata probabilmente i giocatori capirebbero cosa sta per arrivare se i giocatori trovano semplicemente una spada infuocata nel tesoro potrebbe sembrare una coincidenza almeno fino a quando non arrivano i mostri nel capitolo successivo purtroppo però usando questo metodo si hanno anche entrambi gli svantaggi ovviamente il master dovrà lavorare più tempo per decidere quali sono gli oggetti che dovranno essere inseriti e i giocatori da parte loro avranno la libertà di scegliere quello che vogliono quindi avranno anche la possibilità di fare scelte sbagliate che alla lunga li lasciano insoddisfatti in realtà il discorso non si esaurisce qui perché c'è ancora un metodo di cui non abbiamo parlato che è quello della distribuzione randomica cioè quello in cui in realtà nessuno decide che cosa venga dato ai personaggi ma quello si porta dietro un discorso molto più ampio che non ha a che fare col D20 system ma con l'approccio tra tesoro e verosimiglianza nell'ambientazione che riguarda anche l'OSR e anche i giochi non tradizionali in linea generale quindi non voglio parlarne in questo video andrebbe ad appesantirlo questa diciamo che è la questione per quanto riguarda D&D ma nello specifico il D20 system per quanto riguarda il resto ne parleremo settimana prossima ma fino ad allora io smetto di parlare ma la parola passa a voi scrivetemi qui sotto nei commenti qual è il metodo che voi utilizzate per distribuire il tesoro se date soldi se date oggetti se date entrambi se usate un altro metodo ancora perché avete fatto quella scelta potrebbe tornare utile a tutti vedere come master diversi gestiscono le cose in maniera diversa come sempre se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che è avuto a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche se le notifiche non vi arrivano in descrizione trovate i link al gruppo di telegram e al server di discord dove metto io i link manualmente e si raduna anche il resto della community del master CAE io sono il master CAE e noi ci vediamo nel prossimo video ciao